Volevo partire dal film presentato qui a Rimini, che esperienza fu quella con Mastroianni in Perle Antiche Scale e che ricordo ne ha? Guarda, io ero molto amico di Mauro Bolonini e quando lui mi ha offerto questo ruolo era proprio felicissimo perché per la prima volta che uscivo fuori dal mio cliché della comedia sexy. Poi Piero Tosi, io lo amo, è un maestro fantastico, anche se metteva tre ore per mettermi un'onda in faccia. In quanto a Marcello, Marcello in quel momento era molto depresso perché la signora Deneuve l'aveva lasciata e lui veramente non parlava con nessuno. La teneva qui accanto a me al trucco, lui arrivava a mettere la sua cassetta, bella senza anima, e sentiva quella cassetta in continuazione. Quindi, essendo giù di morale, non era una persona che parlava con nessuno, se per quello, quindi era abbastanza freddo del discorso. Però, comunque, è un'esperienza importante. Come accennava, lei prima di questo film ne ha fatti molti e diversi, tra cui un cult assoluto come Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo. Ecco, che ricordo ha di Di Leo invece? Guarda, tutti pensano che lui, anche la propria famiglia, ha detto che quando sta sul set è totalmente diverso di come sta a casa. Sul set, perfetto come regista. La scena, quella più visto, diciamo, il mio ballo dentro la discoteca. Tutti fuori, tutti fuori, nessuno qua dentro, e devo essere una cosa molto riservata qua. Il giorno dopo era su tutti i giorni. Non era vero niente. Appunto abbiamo citato Bolognini, Di Leo, ma lei ha lavorato anche con Preminger, Di Norisi, Salce. Tra tutti questi se ne dovesse scegliere uno? Ripeterlo? No, se ne dovesse scegliere un regista preferito tra quelli con cui ha lavorato. Questo è difficile, perché io andavo d'accordo con tutti se per quello. Io veramente l'anno tra l'arancia volevo fare con Dino Risi. E per quello che sono andata a fare il provino e tutto quanto, però la signora Vitti ha detto no, niente più onda. E lei comandava? Io non ho perso l'animo, sono andata a prendermi una parrucca nera, la ho messo in testa. Ho detto allora, adesso? Ah sì, adesso va bene. E devo dire, alla fine la devo ringraziare perché mettendo questa parrucca, cambiando totalmente la mia personalità con la vocina, mi ha dato la possibilità di fare un ruolo, un personaggio che non sarebbe stata la stessa se era bionda. E ha ragione. E le capita mai di rivedere i suoi film? E se sì, che effetto le fa? Ma io sono abbastanza... le guardo raramente, devo dire, se passa per la tv. Uno che non ho visto nel passato, me lo guardo. Io sono molto... non mi posso dire... per me quella è un'altra. Non sono io. Ho capito. E allora le faccio un'ultima domanda. Dal suo punto di vista, quanto è cambiata l'industria del cinema per le donne in questi 50 anni? All'epoca, credo... io ovviamente ero considerata la donna dei sogni. E oggi... oggi stanno più attenti a fare i film di questo genere perché è uscito fuori tutta questa cosa contro le donne, eccetera. E quindi stanno più attenti a non usare la donna troppo come oggetto. Poi, in quanto il cinema è cambiato moltissimo, il cinema... Io vedo adesso, per esempio, adesso sto facendo un film e io cercavo i luci. Non li trovavo. Ma ha detto, ma non mi illuminate? Ah no, non si fa più. Adesso è tutto macchinario. Vedi, lui sta là, io sto qua e tra lui e me facciamo luci, tutto. Penso un po'. Io ero abituata ai brutti, queste cose grosse, enorme, che è un altro cinema. Poi mi rendo conto che è anche cambiato molto perché le piattaforme, gli esergenti dei cinema non fanno passare molto quello che è fatto in Italia. che hanno poco spazio, preferiscono di prendere un mega film americano già pubblicizzato, già fatto, già garantito, piuttosto dare la possibilità a un italiano. Quindi per chi fa il cinema oggi è molto difficile, a meno che non è già dall'inizio, riesce a farlo per una delle piattaforme. che mi rende, è tosta.